GG Well Played Ti divertito il game? No ma perché non sto giocando, sono d'altra parte Provevo a concentrarci sul momento Dione Duno, attention please Ti chiederei di fare duo ma io sono Master, non la possiamo più fare Sai, il più grande counter di Paolo Soiola Sono i nemici di Paolo Soiola Che rendono Paolo Soiola King Shark Chi sono i nemici di Paolo Soiola? Sei tu Dai, torniamo a traradare come Tori Dai, scriviamoci qualcosina Ma quant'è che non ti prendi un giorno di pausa dallo stream? Ti devi fare i cazzi tuoi Facilmente irritabile Mettiamoci come obiettivo rank 1 challenger, dai Diventare simpatico come obiettivo? Rank 22 challenger Eliminare dalla prima vita Federico Yumi, action, qua c'è da giocare in gauge Nautilus, c'è da giocare in rune Possiamo giocare anche Blitzcrank contro E0, giochiamo Nautilus Seraphine Yumi Nautilus Fonte vitale, me la prendo Sì Risoluto lo voglio Sì WMR, sì Abbiamo un team che può fare sia split push che team fight R Quindi game plan Il game plan qual è? Il mio game plan è quello di uccidere la botte nemica Assieme a Kai'Sa E di non farci rancare la Diana L'obiettivo è quello di prendere la T1 bot dopo che abbiamo ucciso la botte nemica Possiamo romare Sì e no Bertina magari si può Per invece mid lane non ganchere Vladimir Il mio ruolo qual è? Quello di ingaggiare Ingaggiare su chi? Su tutti i T1 sejuani C'è prima il clean su Seraphine Buono Loro non hanno il clean Male Noi abbiamo l'ignette Bene Allora andiamo con questo game plan Non ci distraiamo Ho questo smetelizzatore Perché Perché voglio grabare di più le game Li deviamo Se li vediamo quelli li ruminiamo Revive Va bene il DPS Gameplay molto semplice Molto straight forward Dobbiamo solamente ingaggiarli E adesso siamo molto più forti Spetta prima Diana potrebbe essere Botlin Sessione al grab Brava Diana Ancora Botlin Brava 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 Abbiamo i mercuri Pink pozza Ricaricabile Un 2x2 Non è malissimo Giamo a pack Questo e questo Le maie sono ancora girate Vino anello Posso gancare la midline Assolutamente Tutto pulito Ah di poco Cazzo Questa c'è di nuovo Giampino sentando Abbiamo salvato Giusto in tempo Guardiamo Continuiamo a giocare Per il Drake Adesso si vince La partita Qua Peccato per il Drago Ma Gioriamo a barattore Midlane Gran peccato Perché qua ragazzi Ci scappava Tanto Questa è finita molto bene Era flippata Ma Finita bene Flippata Questa colla è bellissima Mi piace un sacco Ok Ci facciamo qua We need Heal Reduction Mi faccio Un pezzo A volte che li ingaggiamo Li spacchiamo Adesso il game è facile Il game è facile Adesso Perché abbiamo Un grandissimo Vantaggio in gold Li abbiamo scalati E Nessuno fa Un grandissimo Incredibile Ciccola per l'inibitore Facile In realtà Potremmo anche Ha dovuto flippare Finché non ci ha schiattato Ma poi soprattutto io Volevo full fiesta Non volevo Giocare ragazzi È vero che ho visto tutti Ma non volevo giocare Cioè Tu hai preso tutto Cioè se tappare il baron Se tappa il baron Non rischiare Mi viene l'ansia Mi viene l'ansia Perché quella è l'unica maniera Che hai di perdere Tutto il vantaggio Che hai costruito Con difficoltà Tu prendi i rischi Se non hai nulla da perdere Ah Questo Rischio Zero Sono tutti in base All mid Now We can end Ma devo grabare action O seraphine Sicuramente non se ci ha Mi accontenterei anche Non se ci ha Oh Beh Oh Devo bloccarlo Nice shot Grazie King Sono il capitano Del team balosessuali Grazie King Che in plan ha funzionato Avete visto amici Grazie King Ci prendiamo questi due honor Perché ci sono impegnati E la gente lo nota Quando ti impegni Due honor Due honor E me ne vado Due honor E me ne vado Non mi fate Non mi fate nevo Mi passano E me ne vado Andate a fare Come vedete Quando citiamo Un obiettivo Possiamo raggiungerlo Allora C'è karma Potrebbe Could be Mid Do Ok possiamo andare Lulu Zeri Lulu Zeri E il mio ruolo È quello di far scalare Zeri Mi piace questo team Forza attiva Forza attiva Brucia La trascendenza Va bene Va bene tutto Anche i biscotti Ci abbiamo proprio Una grande bella squadra Anche qui Abbiamo capito Subito il nostro ruolo Adesso il nostro ruolo È di supportare Zeri Di fare la scalare Per bene Potremmo soffrire Un po' di early game Perché hanno Un buon push Va benissimo così Un trade discretissimo Possiamo prendere il drago Secondo me Vediamo una mano Non l'ho sluvato Era morto Nice Faccio cooldown ed action Così rendiamo ancora Per forte Zeri Noi dobbiamo vincere Il trade La botta sta vinto Non possono giocare Facciamo la stessa cosa Di loro Molto 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 Meglio Andiamo per la T2 Nice Che culo Che abbiamo avuto Dai 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 Che ce li mangiamo Anche questo è un bel game Ok Che abbiamo Baron Vision Now We melt it Play 42 Siamo un bot Ho l'exhaust Non lo posso usare A parte che non serve Opla Capiamo il nostro ruolo E ci siamo Che noi sembriamo una squadra A differenza loro Comunque Ma noi facciamo le cose assieme E' proprio una squadra più semplice da giocare Ragazzi Ci siamo eh Posso prespiccare l'arma Non è un problema Anche un buon flex Faccio Questo Vorrei farmi E le scarpe No le scarpe non le voglio Zonia Potrebbe essere L'ozonia Poi biscotti Io l'ozonia Zira non sembra uno Che si impegna troppo Diciamo così Ok Le cinza Secondo è qua Ma guardo Never know Ah Carpeccato Salas è pericolosissimo Salas è veramente pericoloso Keep that in mind Tutto un coso Guarda che Adesso a breve C'è anche lo zonia Dovrebbe fare W Io c'ho lo zonia Adesso Quindi sarà ancora più difficile Ammazzarmi Dai insomma Mi stavo una morte Che idea Ma quale idea Non vedi che Non ci sta E no che non ci stava Ragazzi Qua c'è un bel col Cazzo E flash Amora Boys Possiamo andare A casuccio A bella calda Dopo questo Stomp Non muoio Ho visto un piccolo cambio di rotta Dal flame di Minutes Ah Ai 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 Così proprio Facile Stiamo draftando bene Karma è veramente rotta La dobbiamo priorizzare Abbiamo fatto top danni del team Capito? A master Ed ero pure Tancoso come una merda Buildando una build Tanc C'è questo item qui Non ti fa morire Ma basta che draftiamo bene Perché se inizia bene la draft Poi è tutto più semplice Se hai un'idea Prima di iniziare Allora Cosa possiamo prendere Lo che ci counter In bot? Braum Braum ci counter Ok C'è abbiamo la squadra Braum ci counter Non è gravissimo Va bene uguale Ci stiamo mangiando Il rispetto dei compagni di squadra Eh ragazzi Lo stiamo mangiando Piano piano Ma ci stiamo mangiando Il rispetto della gente Dai e boys Dai e boys E poi ragazzi Alla fine Questa è la mia skill Più forte di tutte Fare squadra Non ne ho una migliore Questa è la mia skill migliore E fare gruppo Facilissimo Quella stai intanto Tiltata come una spazia Ai 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 Tabby Mercury I tabby li preferisco Di gran lunga Ai Mercury Contro Draven Però ci hanno Tanto crowd control Uno Due Tre pesanti Tanti Che giochiamo insieme Una vita Abbiamo rischiato perché abbiamo un gioco senza dichiarie che è il più forte della squadra Per fortuna abbiamo tornato, io ho preso una bella ulti, Cassio anche Anzi, io unica cosa vorrei che voi non vi impressionaste Cioè che voi quando mi guardate tryhard a rimpegnarmi non vi spaventaste Cioè che voi mi guardate, stai sempre come il palo che da un momento all'altro può diventare soiola Stai tranquilli ragazzi, non abbiate paura perché uno dice Minchia questo qui ha detto che vinci tutto e poi inizia a vincere tutto Allora forse Dio, no amici, state sereni, state sereni L'ho umilato a livello 1 sto cristiano, secondo me alla fine della partita si interposisce un po' Ah non ho blitzcrank, ma non mi hanno cagato di striscio, blu lock non l'ho mai visto Poi dopo, oh we are a team e nessuno che mi risponde Siamo una squadra, è tutto in silenzio Comunque Natus molto meglio di blitzcrank Di base come dice Natus viene counterato da Da Braum Maui in flession, gg welplayed Ragazzi siamo di nuovo master eh Avete visto boys? Siete contenti? Avete visto ragazzi? Guardate, prima del flame di Minuz e dopo il flame di Minuz In questa partita ci ha flammato Minuz Poi ne abbiamo vinto, 1, 2, 3, 4 su 5 Quella che abbiamo perso ci hanno intanto Ma dimmi tu se pure le pulci hanno la tosse Cioè questo come dice Farei tu ma io sono master di fare questa tua Vabbè ma chi è che la busta totale è master? Ciao